Bella androida a tutti, io sono Franz e oggi siamo tornati su Clash of Clans Ragazzi oggi attacco particolare, vi farò vedere la mia prima go wipe con golem e pekka al 3 Come vedete ho fatto 13 maghi, 2 golem al 2, sto preparando quello al 3 Quindi mi scuso se mi correggo Il pekka, 4 pekka al 3, gli spacca muro e nel castello un golem maxato, livello 5 In più ragazzi, visto che sono usciti già tutti, non so come dirvi Sono usciti comunque già tutte le informazioni su tutto l'aggiornamento che ci sarà di Clash Vi voglio far vedere in anteprima, o per chi non l'avesse comunque vista La strega al livello 3 Che è veramente spettacolare Proprio gli fa una pippa a tutti il resto Comunque ragazzi Io procederei subito nel cercare di fare un attacco Questo è un attacco dedicato oggi Va bene ragazzi, io penso di averlo trovato Non ha chissà che cosa, ma purtroppo in lega master Si becca sempre meno Quindi io partirei Diversamente dai soliti attacchi go wipe Quindi farei Subito i due golem qua Gli spacca muro Così i golem entrano Via di pekka Maghi a pulire Il mio arciere Una bella furietta qua Un'altra cura Ancora i miei bravissimi spaccamuro Che hanno devastato Potenziamo qua tutto Facciamo saltare anche i golem Questo qui lo dobbiamo veramente devastare Una bella fretta perché Sicuramente non ho mai provato la fretta Però è abbastanza divertente Come attacco Diciamo che Il golem al 5 Neanche ve lo dico Guardate lì Devasta tutto proprio Ops è morto un pecca Praticamente abbiamo fatto Piazza pulita di questo qua Cioè Devo dirvi la verità A me non è mai piaciuto Sinceramente Il Come si chiama Il Il go wipe Non mi piace Ma è una questione mia Io preferisco Anche in war Attaccare Molto diversamente Ormai la mia regina Farà in tempo a A distruggere Anche l'ultima Fare le tre stelle Ups c'era una bomba Perfetto Tre stelle E l'abbiamo E l'abbiamo Raso al suolo Diciamo che come attacco È andato Abbastanza bene Doniamo sti giganti Ne ho solo due Pronti ragazzi Mi dispiace Questo attacco È dedicato A diciamo Un altro Lo so che è un po' Un po' troppo ripetitiva Come cosa Però Anche questo è dedicato A A un membro del clan Che Diciamo Alla mezzanotte Compie gli anni Quindi Vorrei fare un I miei più sentiti auguri A DD Ovvero Devil Dark Ti faccio I miei più grandi auguri Happy Birthday Grazie a tutti va bene ragazzi io spero che comunque il video vi sia piaciuto se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi vi ricordo di lasciare un bel like per adesso dal vostro Franz è tutto bell'android